Michelle Sousa, una brasiliana della Murgia ad Altamura, candidata al Consiglio Comunale di Altamura, naturalmente con il PD, quale esperienza sociale, umana, personale conta di portare in Consiglio Comunale? Allora l'esperienza mia personale è quella dell'immigrato, ma non l'immigrato comune, ma l'immigrato totalmente integrato in una realtà altamurana. Tengo presente che Altamura ha quasi l'8-9% della popolazione di origine no italiana, quindi questo è molto importante sentire appartenente a una determinata realtà. Purtroppo le diverse polemiche dell'immigrazione in questo momento ci hanno portato a essere un po' anti-straniero, ma il mio obiettivo nel sociale, quella che è la mia esperienza, è rendere anche l'italiano stesso inserito in un determinato contesto. Il contesto in cui io voglio essere inserito è quello del sociale, di dare le pare opportunità dalla nascita, non bisogna essere figlio di qualcuno o appartenere a qualcosa per avere i diritti essenziali dell'uomo, che è il diritto al lavoro, prima di tutto che manca in questo preciso momento, il diritto alla casa. Da noi ci sono tanti sfratti e tante realtà locali del comune, di abitazione comunale vuote e che non si potrebbero pure fare la riconversione verso quelle che sono la parte della popolazione disagiata e che ha subito già uno sfratto esecutivo. Da quanti anni è in Italia, ad Altamura e naturalmente in quale lista lei milita, quindi qual è il sindaco che sostiene? Allora io sono 23 anni che vivo ad Altamura, mi sono sposata con un altamurano, in questo momento sono separata, divorziata da 8 anni, però ho scelto di vivere ad Altamura con le mie due figlie, Nicole Ventani e Isabel Diunice, tra l'altro oggi io compio anche 40 anni, sono i miei primi 40 anni, auguri, grazie, sono i miei primi 40 anni, e riuscire ad avere con il mio sindaco Antonello Siliano, che non è di natura PD nel classico, nel modo classico, ma con una bella lista civica, Sì sì, noi con Siliano e anche la lista di PD, ABC, SEL, abbiamo costituito questo gruppo in grado di togliere quella pesantezza che avevamo dalla destra, che è rovinato per 10 anni Altamura. Il nostro obiettivo è riprenderci la città, abbiamo un programma in comune, perché bisogna anche parlare di programmi, di quello che si vuole fare per la propria città. Io vi invito, per conoscere me personalmente, che ho anche un'associazione di promozione sociale, associazione Amici del Brasile, vi invito a visitare il mio sito www.michelsousa.it. Vi ringrazio e ci rivediamo dopo le lezioni. Buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie, grazie.